Perché con questi padri si volevano pure divertiti insieme. Ma tu immagini, tu fide una super mignotta come noi. E allora sì che si fanno rispettata da tutti, da gente, dalle televisioni, dallo Stato. E i sette giornali hanno sblocato a parte, la camora si c'è a festeggiare. E lo sai perché? Tu lo dico io perché. Erano loro i bombaroli. E se lo Stato si è cagato sotto per un bombetto, pensasi che fanno scoppiare qualcosa di speciale, dentro di portar l'amento, o l'olimpico, durante lo malazio, fa per il botto più grosso di tutti i botti, di tutti i bengala, di tutti i derby, di tutta la storia del carico italiano. Allora sì che si trasmettono a Redi Unificate in sé. Tu sei mai stato scogliato. Mi chiedo che l'ultima volta... ...ma di questo stico di me. L'ultima volta, non lo so. Non rinaccia! Non rinaccia! Ora sì! Ma io! Grazie a tutti.